signor ga mi sente? sei il vero? il vero chi? no non ci credo il vero chi me lo dica il vero chi? no vabbè lei è il vero gabbraccio? eh si me lo conferma? si le lo confermo ma tu sei per caso il pro player da switch proprio lui? non credo di essere il pro player da switch però non proprio pro player però giochi dalla switch senta signor ga ma lei lo sa che cosa succede ai ragazzi che sono qui con me in questo esatto momento? eh si lo so bene senta ma lei è iscritta al mio canale per caso signor ga? ovvio troppa sempre un bel like furbetto sotto tutti i miei video? sempre ah dottor ga allora mi dica qualsiasi cosa lei desidera all'interno di questo negozio oggetti che è enorme abissale infinito mi piacerebbe un sacco la maleonte me lo conferma ufficialmente quindi signor ga? si e allora dottor ga le vado a regalare iron man no non è vero perché ovviamente iron man non è nel negozio oggetti ma lei si becca la skin dei suoi desideri eccola qui! ha preferito il lama al leone? beh sì in effetti no dottor ga mi raccomando vada a vincere un bel game con questa skin e continua sempre a seguire i miei video ciao ga buon divertimento ciao hai ovviamente per supportarmi al massimo all'interno del negozio oggetti il codice più fresco del centro italia r4 e siamo tornati ufficialmente proprio lì dove non ti aspettavi all'interno della città eterna all'interno di springfield town occhio ehi ehi lombrigo no lombrichetto oh mio dio fermi 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 abbiamo subito la prima difficoltà vera ehi la a casa Gennarino bye bye signor franco bye bye signor franco ok abbiamo chillato il primo che non ho capito se fosse un bottazzo o un player vero non mi ha sparato nemmeno un colpo in realtà ma forse perché siamo stati piastuti non se l'aspettava che l'avremmo subito blastato all'inizio io mi vado a sciagallare qualche... si lo sceldone dei desideri ho visto anche un bel pompa verde ci siamo 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 all'interno della città delle radioattività perché dobbiamo anche qui prenderci il primato di primi in classifica oh stanno sparando? stanno sparando di qua sulla destra? questi sono... oh my gosh cucciolino vieni qui bye bye fringuellino che cos'è quell'arma? R blu R blu ok sappiamo che è lì quindi dopo ce lo andiamo assolutamente a prendere ora dobbiamo trovare il cinghiale che eccolo il cinghialotto ah ti piace il 31 31 eh cinghialotto lui è... ma ma questo piellino ha preso la nostra taglia no? ma io dico signorino io lo so che l'è qua sotto dai su avanti no signorino faccia il bravino al charge ok va bene va bene e buonanotte ti chillo pure che sei la mia taglia ti chillo pure buonasera signorina sempre centro non mi killi oh occhio non è finita qui c'è ancora un altro oh mio dio hanno appena cecchinato ho sentito un sound davvero molto molto strano dobbiamo stare attenti non capisco dove diavolo a cecchino eccoli qui 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 ci venga a prendereetti no non ci voleva questo aspetta 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 perché stanno sprando anche altri noi abbiamo il cecchino degli dei chi è che mi spara chi è che mi spara? fermi ecco il player non ci credo non ci credo se sei davvero duà eh non ci credo 105 non mi hanno fatto a nullalarti occhio 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 eee Io lo sapevo che eri tu Gatto silvestro Gatto silvestro ti venga a prendere Bello sto venti Guarda tu guarda tu guarda tu No Allora facciamo una cosa Facciamo una cosa giusto per non impicciarci Ci andiamo a prendere che è qui blu Che cos'è che cos'è scildone Ma si grazie lo gradisco me lo faccio Oh mio dio ma questa città ci vuole bene Stiamo trovando scildini Che è successo perché si è mossa Regà perché si muove Si sta muovendo lo schermo così Forse è una cosa Che è data da questa ciminiera Non lo so Noi comunque ce ne andiamo a prendere il nostro bella R blu Però aspettate perché sicuramente ci dobbiamo scontrare Con queste guardie dell'indipendenza internazionale Dobbiamo buttarle giù Quindi tu Bye bye cucciolo Ok bella Che goduria quando ti escono queste cerchinate Quello lì lo va a restare Tu arrivederci Ok Ora l'oressi Sì sì ti prego 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 No l'oressi Signore 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 Le avevo detto di restare il suo amico Non si fa così Non si spara il capopalestra di questa città Mi sto infervorendo Mi sto infervorendo Lo so lo so lo so Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Attenzione Perché qui prendiamo subito questa bella mitraglietta Che non è affatto male E dobbiamo trovare un pump che sia decente Questa roba qui A me non mi piace verni A me non si dice Attenzione Però se te ne accorgi Lo puoi dire Nuova regola Dell'am e me Occhio perché dobbiamo andare a trovare Un bel pump Goloso Che sia magari con il tattico Una roba del genere Ok Ce ne stiamo andando in safe Let's go E amici miei Attenzione Perché c'è una buonissima probabilità Che la nuova season Che tra l'altro esce tra quattro giorni Si è incentrata di nuovo su batman E su superman Perché chi di voi ha visto il film batman vs superman Sa insomma che c'è una saga C'è una storia C'è un bel po' di roba Ma comunque a me mi interesserebbe avere all'interno del mio armadietto La skin dei mister superman Che è qualcosa di incredibile E chissà finalmente rimettono i superpoteri Magari non so Ammettono anche la macchina di batman O il superpotere di superman Effettivamente Cioè non è che ha un superpotere Superman è l'uomo più forte del mondo Alla fine Anche se è uno scontro Galactus o Thanos Verso superman Non so chi lo vince E occhio perché è stata spoilerata Anche la probabile mappa Della nuova season Che è questa qui Che vi vado a mostrare In quanto il tipo il grafico Che ha realizzato delle skin di fortnite E si è lasciato scappare questa isoletta Quindi potrebbe anche essere Che la nuova season Sarà una season All'interno di un'isola fluttuante Occhio perché basta chiacchiere Siamo tornati operativi Ora tra pochino vi dico un'altra robetta Però prima fatemi capire dove diavolo Regà ma noi siamo dei fagiani Noi siamo dei paguri ambulanti Non ci siamo fatti mazzo Stiamo andando in giro Stiamo chiacchierando Ma senza mazzo Signor pelatone Vada a farmare bravo Butta giù gli alberi Butta giù gli alberi Don Bosco Butta li giù Oh occhio Cucciolo stai fermo Stai fermo Stai fermo Che ce lo prendi Stai fermo Che ce lo prendi No 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 Però non così Non così No io sono pure sceso Guardate qui Le torre fell Le torre Oh bello quello là sopra Dove diavolo andava Mamma mia No vabbè Sì va bene Li vado a sfidare Però moriamo Li vado a sfidare Però moriamo Questi sono davvero Troppo troppo forti Quello lì Il re Il re Il re della mappa Se battiamo lui Abbiamo vinto ufficialmente Ma non Quasi quasi ci ripenserei Sapete Bello sto 31 Alato Lo proviamo Lo proviamo Lo proviamo Dobbiamo fargli questi fight Dobbiamo avere coraggio Andiamo Signori Vi ho voluto bene Noi siamo ufficialmente morti Ve lo dico Buono Guarda quanta roba Ci sciagalliamo tutto quello Oh signor santo Mi prendo solamente lo scar Per iniziare Signorino dai Venga su Venga su Ok eccolo Eccolo che sale La sto aspettando Lambrusco Giovanni Lambrusco Giovanni Salve Lambri Apri Apri Lo so che apri Lo so che apri Ok mi metto sotto Tu puoi uscire Un altro No No rega Abbiamo killato il più forte del mondo Non è arrivato subito un altro Aspettate Shieldini No cecchino No cecchino di prego Ok Per non capire dov'è È lì Signor gattino Oh mio dio Questo mi fa male Questo però Mi fa molto Eh si sta facendo le squazzette Tutto il lutto che non abbiamo preso prima Ehi là No 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 Ai 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 Oh 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 No No Così però no Così Ma dove va Ma dove va Ma dove vai È scappato Hai capito il vigliacco È scappato Va bene va bene va bene A noi non c'è In realtà lo potremmo andare a prendere Però voglio vedere Se abbiamo ancora Sì Non si è preso niente Allora Vediamo un po' Il signor Giambruco Il signor Giambruco Dov'è Signor Giambi Ma regà Ma regà Ma questo dove sta No eh No eh Dove diavolo è Ma dove diavolo è Ma dov'è Oh mio dio Non c'è dietro di me Signori miei Devi morire Ma era dietro di noi È impossibile che ancora Cioè è impossibile che è vivo E sicuramente non è una tempesta È caduta all'oscurità Non ci vedo niente Li hanno buildato Ma dov'è Ma dov'è quella gelatina Eccolo 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 Oh mio dio Vieni qua Vieni qui Gelli Ha sparato O ha sputato Ha sparato O ha sputato Cosa fa Cosa Ahia Ahia Ah è bravo 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 Ok Va bene Bravino Non bravo Bravino 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 Dov'è l'ultimo player È quello lassù Oh mio dio È quello Mamma mia Che No questo è il più vicino di tutti Il più vicino di tutti Signori Dobbiamo buttarlo Oh Ma È un buttazzo Ah no È un pancake Non buttazzo Questo è un pancake fuori classe Fermi un attimo Fermi un attimo E qui la situazione È molto rigida Per noi No noi abbiamo No regà No abbiamo solamente 9 colpi R Basta Non possiamo più sparare Questo tizio Sta facendo qualcosa Quest'altro tizio È brutta situazione Per noi Noi dobbiamo andare da lui Io avanzerei ora Io avanzerei ora Non lo so ma Mi viene ad avanzare ora Vediamoci Priviamo Ci proviamo Sì ci proviamo Per forza Non possiamo sparare Con 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 lo scar Mamma mia Se ti fai vedere Cucciolo Se ti fai 3 2 Uuuu Dove vai Dove è sceso Va bene Va bene Avanziamo Regà Come va Ci dobbiamo provare Ci dobbiamo provare per forza Ok Il signor Jelly è nell'acqua No Sta avanzando anche ora Il signor Jelly Buono 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 È nell'acqua Mai non gli sparo Voglio prendere l'aground Perché il nostro Oh cavolo Eh niente Non è sceso per niente Il nostro amico Oh Cavolo 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 No ragazzo Eh qui È un problema Perché Jelly È in una buonissima situazione Non capisco dove è il signor Jelly Ma è su Porca la miseria Dobbiamo andare anche noi No che cos'è questo muro Non l'ho messo io Ok ancora del player vivi Andiamo su Andiamo su Andiamo su Ok Abbiamo preso l'AIG Sì Official AIG Buono 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 Ok Bene Bene Vai a sciagallare Oh no Così no però 38 va bene Onesto Facciamo una cosa Dobbiamo scendere di qua Eh lui si sta Shieldando Maledetto Eh bravo È bravo È bravo È bravo Questo playerino È bravo 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 Vediamo che cosa si sta inventando Ok È molto bravo Oh my gosh Fenomeno eh Fenomeno puro Fenomeno puro L'abbiamo preso però Questa robetta qui Ci dobbiamo inventare qualcosa Oddio Che ansia Che ansia Che ansia Che ansia Che ansia Io lo sapevo che tornavi dietro Cucciolo Occhio E questo qui ci apre E ci fa la sorpresina col pompa Attenzione Aia È bravo È bravo Sa che siamo bianchi Sa che siamo bianchi Ci può fare quando vuole Ci può fare quando vuole Lo sa Lo sa Lo sa È bravo È bravo È bravo Ha tutto in pugno È in pugno la vittoria È in pugno la vittoria Non possiamo fare niente Regà Non possiamo fare niente Possiamo solo morire E fare una fine dignitosa La situazione è bruttissima Oh Ma come No Vabbè Animale puro Quasi quasi mi suicidio Ma dov'è Non capisco dov'è Eh Ce l'ha fatto Ce l'ha fatto Ce l'ha fatto Molto più bravo di noi Molto più bravo di noi Non possiamo fare niente Conto lui Fenomenale Fenomenale Campione Campione Complimenti Complimenti Schifosissimo Seconda posizione Peccato Molto più bravo di noi Ma noi abbiamo fatto Un risultato incredibile Amici miei Mi raccomando All'interno del negozio oggetti Il supporto A un calore più fresco Del centro Italia R4 Iscriviti al canale E attivate la campanella Notifiche E droppate un bel like Un curvetto Se ancora non l'avete fatto Ora vi lascio Due video bombadanti Il vostro schermo Quindi mi raccomando Andatevi a vedere Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre news E Le strade All'interno del negozio